Una certa signora C. era una delle prime credenti che andò ad H. apparteneva a un gruppo ricco e alla moda di New York. La sua vita era stata convenzionale e piuttosto insoddisfacente. Era stata una cristiana sincera, ma in qualche modo non aveva tratto molto conforto dalla sua religione. Era diventata un po' malinconica. Durante un viaggio all'estero aveva appreso di Abdulbaham. Colse avidamente il suo messaggio e si diresse verso la città a prigione. Arrivata fu affascinata da tutto, soprattutto dal maestro. Notò che Abdulbaham la salutava sempre con la frase «Sì felice». Gli altri membri del gruppo non erano salutati allo stesso modo da lui. Questo la turbò. Infine chiese a qualcuno di chiedere al maestro perché si rivolgesse a lei in questo modo. Con il suo sorriso particolarmente illuminante egli rispose «Ti dico di essere felice perché non possiamo conoscere la vita spirituale se non siamo felici». Allora lo sgomento della signora C. fu completo e la sua diffidenza si tramutò in disperazione. «Ma dimmi, cos'è la vita spirituale?» esclamò. «Ne ho sentito parlare da quando sono nata e nessuno è riuscito mai a spiegarmi di cosa si tratta». Abdulbaham guardò di nuovo la sua interlocutrice con quel suo meraviglioso sorriso e disse dolcemente «Adorna te stessa con gli attributi di Dio e conoscerai la vita spirituale». Poche parole ma erano sufficienti. La signora C. cominciò a chiedersi cosa significasse Abdulbaham con quelle parole. «Gli attributi di Dio devono essere attributi come amore e bellezza, giustizia e generosità». Per tutto il giorno la sua mente fu inondata dall'enigma divino e tutto il giorno fu felice. Non pensava ai suoi doveri eppure quando arrivò al momento della resa dei conti della serata non ricordava di averli lasciati incompiuti. Finalmente cominciò a capire. Se fosse stata assorbita dagli ideali celesti questi si sarebbero necessariamente tradotti in fatti e i suoi giorni e le sue notti sarebbero stati pieni di luce. Da quel momento non dimenticò mai del tutto l'ammonimento divino che le era stato concesso «Adornati con gli attributi di Dio». Così imparò a conoscere la vita spirituale.